ciao a tutti amiche in questo video vi mostro come realizzare questo delizioso angelo si tratta di un progetto molto semplice da fare perfetto anche per usare gli avanzi di cotone che abbiamo in casa è un progetto che possiamo usare anche se vogliamo fare un regalo diverso dal solito io ho realizzato queste due versioni naturalmente vi aspetto giù nei commenti per sapere che cosa ne pensate di questo progetto e quale versione preferite se non l'avete ancora fatto inoltre vi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube per non perdervi i prossimi progetti creativi ma adesso passiamo subito ai materiali per realizzare questo progetto ci servirà del filo in cotone da lavorare con l'uncinetto dal due e mezzo al tre e mezzo io userò il beige chiaro per realizzare la testa poi il bianco per fare le ali poi ci servirà un colore a nostra scelta per realizzare il mantello in questo caso userò il rosa poi ci occorrerà anche un filato in lame però non è indispensabile inoltre dell'imbottitura sintetica qualche segnapunti l'uncinetto di lavorazione il numero 3 ci potrebbe servire qualche piccolo accessorio come ad esempio queste stelle in legno e infine ci servirà una pistola di colla a caldo per prima cosa inizio a lavorare il mantello io utilizzerò il colore rosa faccio l'anello magico poi prendo il filo lo porto da quest'altra parte e creo quest'anellino lavoro poi una catenella e all'interno di quest'anellino faccio 6 maglie basse 1 2 3 4 5 e 6 dopo aver fatto le sei maglie basse posso anche tirare questo filo per chiudere l'anellino e questo quindi è il primo giro facciamo il secondo giro per il secondo giro devo realizzare sei aumenti quindi due maglie basse per ogni punto sottostante però lo faccio a spirale quindi non chiudo questo giro ma vado direttamente nella prima maglia bassa che ho fatto e realizzo il primo aumento quindi faccio due maglie basse all'interno dello stesso punto di base se volete potete anche mettere un segnapunti qui nel primo punto quindi qui ho fatto il primo aumento devo fare un totale di sei aumenti secondo aumento formato sempre da due maglie basse nello stesso punto di base poi terzo aumento quarto quinto aumento e sesto aumento se vado a contare le maglie o una due tre 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 maglie basse quindi facendo un aumento per ogni punto sottostante mi ritrovo con 12 maglie basse e questo è il secondo giro facciamo il terzo giro sempre a spirale vado a lavorare una maglia bassa poi metto il segnapunti nel punto successivo lavoro un aumento quindi faccio due maglie basse all'interno dello stesso punto di base quindi questa è la sequenza da ripetere fino alla fine quindi ripeto una maglia bassa e un aumento vado avanti sempre con questa sequenza fino alla fine del giro quindi fin qui alla fine mi devo ritrovare con 18 maglie basse per il quarto giro lavoro una maglia bassa sempre a spirale quindi non chiudo il giro metto sempre il segnapunti poi un aumento due maglie basse all'interno dello stesso punto di base e di nuovo una maglia quindi questa è la sequenza da ripetere rivediamo ripeto una maglia bassa un aumento e una maglia bassa quindi vado avanti sempre con questa sequenza fino alla fine del giro alla fine mi devo ritrovare con 24 maglie basse per il quinto giro faccio tre maglie basse è un aumento prima maglia bassa metto sempre il segnapunti seconda maglia bassa e terza maglia bassa e poi faccio un aumento quindi questa è la sequenza da ripetere fino alla fine lavoro 3 maglie basse 1 2 e 3 e poi faccio un aumento vado avanti sempre con questa sequenza arrivo fino alla fine e mi devo ritrovare con un totale di 30 maglie basse per il sesto giro faccio due maglie basse prima maglia bassa uso sempre il mio segnapunti seconda maglia bassa poi lavoro un aumento e di nuovo 2 maglie basse 1 e 2 quindi questa è la sequenza da ripetere fino alla fine quindi devo fare due maglie basse un aumento e 2 maglie basse ripeto sempre questa sequenza fino alla fine per un totale di 36 maglie basse per il settimo giro devo andare a realizzare cinque maglie basse quindi una 2 3 4 e 5 maglie basse e poi un aumento quindi vado avanti sempre con questa sequenza di cinque maglie basse e un aumento arrivo fino alla fine mi devo ritrovare con un totale di 42 maglie basse per fare l'ottavo giro realizzo 3 maglie basse 1 2 e 3 maglie basse poi un aumento e di nuovo 3 maglie basse 1 2 e 3 quindi questa è la sequenza da ripetere fino alla fine ripetiamo 3 maglie basse un aumento e 3 maglie basse andiamo avanti sempre con questa sequenza per un totale di 48 maglie basse per il nono giro faccio 7 maglie basse e un aumento 1 maglia bassa 2 maglie basse 2 maglie 3 4 5 6 e 7 maglie basse e poi un aumento andate avanti sempre con questa sequenza arrivate fino alla fine qui e alla fine dovrete avere un totale di 54 maglie basse dopo aver fatto 9 giri a questo punto vado a realizzare anche il bordino per prima cosa vado qui in questo punto e lavoro una maglia bassissima posso mettere anche il segna punti qui per ricordarmi che questo è il primo punto che ho fatto poi lavoro una catenella e di nuovo nel punto successivo una maglia bassissima e di nuovo nel punto successivo e lavoro una maglia bassissima e una catenella vado avanti sempre in questo modo fino alla fine quindi vado avanti sempre in questo modo e poi arrivo da quest'altra parte sono arrivata qui alla fine ho fatto tutto il giro con questo bordino ho lavorato la maglia bassissima e la catenella entro qui nel primo punto che ho fatto e tiro e vado a nascondere questa codina qui nel retro del lavoro come vedete qui ho due dischi questo è quello che abbiamo fatto insieme ed è quello che serve proprio per realizzare il mantello e a me misura 8 centimetri e poi c'è questo in bianco che io già ho fatto e serve per realizzare le ali dell'angelo questo è semplicissimo da fare perché basta ripetere questa lavorazione però in questo caso mi sono fermata all'ottavo giro e poi ho fatto il bordino di rifinitura quindi per fare le ali ci dobbiamo fermare all'ottavo giro poi si realizza lo stesso bordino di questo per le ali io mi ritrovo con una grandezza di circa 7 centimetri e mezzo quindi ho queste due parti questo è il mantello e queste sono le ali adesso vediamo il prossimo passaggio per realizzare la testa per prima cosa faccio un anello magico prendo il filo lo porto da quest'altra parte e faccio una catenella poi lavoro all'interno dell'anello magico sei maglie e basse 1 2 3 4 5 e 6 posso anche tirare questo filo per chiudere l'anellino quindi questo è il primo giro per il secondo giro a spirale quindi senza chiudere il giro vado a lavorare un aumento per ogni punto sottostante quindi entro qui nel primo punto che ho realizzato quindi qui in questa maglia bassa e lavoro il primo aumento quindi faccio due maglie basse all'interno dello stesso punto di base quindi una e due quindi questo è il primo aumento secondo aumento terzo aumento quarto aumento quinto e sesto se vado a contare le maglie mi ritrovo con una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 e 12 maglie basse quindi questo è il secondo giro per il terzo giro devo lavorare una maglia bassa e un aumento quindi sempre a spirale quindi non chiudo il giro faccio una maglia bassa poi utilizzo sempre un segnapunti e poi faccio un aumento quindi lavoro due maglie basse nello stesso punto di base quindi di nuovo una maglia bassa e un aumento e questa è la sequenza da ripetere fino alla fine del giro alla fine ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse a questo punto adesso dobbiamo fare dal quarto giro al settimo giro sempre 18 maglie basse quindi non faremo più aumenti quindi vado a lavorare punto su punto non faremo più aumenti quindi vado a lavorare punto su punto naturalmente per ogni giro posso anche mettere il segnapunti quindi devo lavorare dal quarto giro al settimo giro sempre 18 maglie basse quindi adesso vado avanti fino al settimo giro e poi vediamo come continuare sono arrivata al settimo giro e questo è il risultato iniziato anche a mettere un po' di imbottitura sintetica qui all'interno proprio per dare la forma della testa quindi metto un altro po' di imbottitura e poi vi faccio vedere proprio come andare a chiudere la testa facendo una filza ho già tagliato il filo lasciando un po' di filo in più quindi con un dito premo l'imbottitura all'interno e poi vado a fare la mia filza quindi prendo soltanto questa costina quella che si trova più vicino a me e vado a fare la mia filza prendo tutte le costine fino ad arrivare dall'altro lato quindi prendo soltanto questa vado avanti vado avanti arrivo da quest'altra parte mantengo sempre l'imbottitura all'interno della lavorazione come vedete ho fatto tutta la filza a questo punto posso anche tirare questo filo in questo modo tiro per bene per chiudere questo forellino e questa è la mia testa lascio ancora questo filo attaccato perché mi servirà poi dopo per cucire la testa al mantello nel prossimo passaggio con il disco più grande devo dare proprio la forma del mantello questo è il del mio lavoro giro in questo modo e qui ho il rovescio del lavoro vado a piegare in questo modo per dare questa forma e poi devo fare questa cucitura dall'alto verso il basso e arrivo circa qui nella parte centrale quindi entro qui ho fatto anche il nodino e inizio a fare questa cucitura quindi accosto per bene queste due parti e vado a cucire inizio a cucire proprio partendo dalla parte alta e devo accoppiare in questo modo la lavorazione quindi vado proprio a dare dei punti in questo modo prendo una solina da un lato e una solina da quest'altro lato e tiro vado avanti in questo modo facendo questa cucitura e arrivo qui quindi arrivo proprio qui nella parte centrale nel prossimo passaggio devo cucire la testa qui nella parte alta quindi ho già il filo attaccato e do qualche punto per fissare la testa qui quindi tiro e do qualche punto vado a fissare per bene prendo sia questa lavorazione e naturalmente vado a fissare anche qui dove si trova proprio la parte alta del mantello do qualche punto in più e vado a nascondere il filo in questa lavorazione della testa a questo punto voglio anche creare un anellino che serve proprio per appendere l'angelo quindi sempre con il filo in tinta e ho fatto anche il nodino entro nella lavorazione in questo modo vado qui nel retro della testa più o meno nella parte centrale e tiro e faccio entrare questo nodino all'interno della lavorazione in questo modo quindi faccio entrare il nodino all'interno e poi vado qui quindi salto un punto entro qui nella lavorazione e passo da quest'altra parte e creo questa asolina quindi possiamo farla naturalmente della grandezza che ci serve quindi vado a creare un'asolina della grandezza che mi serve in questo modo quindi mi fermo in questo modo e poi do qualche punto passando da una parte dall'altra della testa senza tirare troppo quindi vado qui poi vado da quest'altra parte in questo modo per fissare il tutto a questo punto posso anche tagliare questo filo e ho creato questa asolina per fare le ali dell'angelo come vedete ho preso il disco un po più piccolo quello in bianco qua il dritto del lavoro vado a piegare a metà il disco e vado a mettere un po di colla a caldo qui perché devo proprio fissare per bene queste parti quindi devo incollare in questo modo poi vado a posizionare qui nel retro le ali che vanno incollate proprio sotto alla testa quindi metterò un po di colla a caldo qui al centro e poi vado ad incollare questa parte in questo modo quindi adesso vediamo il risultato finale come vedete ecco il risultato finale del mio angelo io ho incollato anche questa piccola stella in legno qui al centro a me piace veramente tantissimo il risultato finale di questo progetto il mio angelo misura circa 10 cm di altezza vi faccio vedere anche un'altra versione che ho fatto ho fatto anche questo con il mantello celeste e poi il bordino l'ho realizzato con il lame oro fatemi sapere nei commenti quale versione vi piace di più e quale realizzerete questo è un progetto perfetto anche se volete fare un regalo diverso dal solito io non vedo l'ora di leggervi e noi ci vediamo a breve sia per i prossimi tutorial ma anche per i prossimi video ciao a tutte